Bello in gol! È dentro! La squadra è una battita, quindi aver fatto tre punti qua è tanto. Noi adesso ci troviamo a 16 punti più i tre punti del recupero che io adesso non considero finché non tutti non hanno recuperato. Quindi ci siamo alzati e abbiamo allontanato alcune squadre che nella prima parte del campionato erano a fianco a noi. Sono contento perché iniziamo a recuperare i giocatori e tante cose. Forse l'unica pecca è essere rimasti anche voi in 10 negli ultimi minuti, però secondo te era più un errore dell'arbitro oppure un'ingenuità vostra? No, io direi, ma un'ingenuità nostra, naturalmente l'arbitro per ristabilire la parità numerica è stato un episodio un po' delicato perché se no stavamo 11 contro 10 gestendo bene la situazione, infatti 10 minuti di recupero e quell'episodio lì hanno allungato il trailing finale però penso che abbiamo fatto bene, in un equilibrio così ci può stare di vincere e siamo molto contenti. Ora testa un'altra sfida difficile contro il Sanquirico. Sì, il Sanquirico è squadra matta del campionato, grande potenziale offensivo e quindi dopo queste tre vittorie abbiamo fatto più punti in dieci giorni che in tutto il campionato, quindi siamo anche un po' sballottati per questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.